Una curva dopo l'altra, giù tra i tornanti della valle di Riso, la corriera che ancora oggi unisce paesini montani della Bergamasca a Ponte Nozza, negli anni 60 era l'unico mezzo che consentiva di raggiungere le pianure urbane. Autobusò il passaggio di un amico per arrivare al posto di lavoro. E lì, chiusa fra le montagne e un dialetto a tratti indecifrabile, c'è Gorno, il paese dove nasce Giuseppe Guerinoni, autista della corriera e padre biologico dell'assassino di Yara Gambirasio. Di Guerinoni alcuni colleghi avevano detto che si trattava di un uomo con la U maiuscola, come titolava già nel 2013 il quindicinale locale Ara Berara. Un uomo dalla battuta facile, suscettibile al fascino femminile, a Gorno c'è sua sorella Vittoria Guerinoni. Lei però non vuole parlare. La scienza però non sbaglia, il DNA nucleare trovato sugli slip della tredicenne di Brembate è quello di Bossetti, figlio di Giuseppe Guerinoni. E allora siamo andati a chiedere ad Esther Arzuffi, la mamma di Bossetti, che tipo di relazione avesse con Guerinoni. Esther, lei conosceva Giuseppe Guerinoni? Sì, certo che lo conoscevo, mi trasportava al lavoro. Eravate amici, conoscenti con Guerinoni? No, 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 solamente lo conoscevo perché mi trasportava al lavoro, basta, ma neanche mio marito era amico. In che periodo l'ha trasportato al lavoro? Del 66 fino a marzo del 67. Quando nasce Massimo Giuseppe Bossetti? Nel 70, al 28, 10, 70. Quindi due anni dopo rispetto a questi accompagnamenti da parte del Guerinoni. Sì, perché poi non ci siamo più neanche visti. La scienza non sbaglia, signora Arzuffi. Sì, 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 la scienza non sbaglia, ma io non sono stata con Giuseppe Guerinoni. Se glielo dico io, non sono stata a letto con Giuseppe Guerinoni e neanche ho avuto una sveltina, neanche ho avuto, scusate il termine, ma neanche sono andata in camporella. Ecco, diciamo questo perché io sono sincera nelle cose. Però allora come se lo spiega? Cioè, da un lato abbiamo la scienza che ci dice che Giuseppe Guerinoni è il padre biologico di Massimo Giuseppe Bossetti e da lì non c'è scampo. Certo. Se non ho avuto rapporti con Guerinoni, qualcosa, qualcosa il mio ginecologo forse può darsi che abbia fatto. Ma io mi spiego solamente che c'è la PMA assistita, sicuramente. Che cos'è una PMA? È un liquido seminale che ti mettono, che ti inseriscono. Quindi lei sarebbe stata vittima inconsapevole di un'inseminazione artificiale? Sì, inconsapevole. Io inconsapevole il mio marito, perché a me, né a me né a mio marito, nessuno mi ha detto niente. Lei come ha fatto a ricordare questo evento lontano, negli anni 60, parliamo del 69, di questo medico? Come l'è venuto in me? Perché era l'unico medico che io andavo, non avevo nessun altro. Io andavo da questo medico e io ero in mano sua. Non è perché non rimanevo incinta. Io sono rimasta incinta, ma i bambini mi morivano addosso. Allora lui diceva, diamo uno spunto in più per aiutare anche gli spermatozoi di tuo marito. E anche da lì mi ha inserito un liquido freddo, freddissimo. Le precedenti erano cure normali. Cure normali, semplici. pastigliette, candelette così, ma niente di che. Queste invece erano cose un pochino più mirate e molto diverse di quelle che facevo. Ecco che ho trovato la diversità, ma mai pensando poi che fosse qualcosa di chissà che. Perché non c'è nient'altro che mi possa dire, tu l'hai avuto con Giuseppe Guerinoni. È impossibile. È impossibile. Non ci credo, perché so benissimo quello che dico. E so benissimo le cure che ho fatto. Giustamente il dottor mi ha mai detto che lui mi inseriva qualcosa per rimanere incinta. Io sono venuta allo scoperto tutto in poco tempo adesso. E come lo ha scoperto? Ma l'ho scoperto perché furia di stare a pensare, pensa e ripensa, le cure che facevo già a Clusone, le cure che facevo dai ginecologi. Non ho mai visto una cura così come questa. Io sono riuscita a risalire a tutte le mie cartelle cliniche a quanto spendevo all'epoca. E quanto spendeva? 70, 80, 90 mila lire. Contro? Contro le 30, 40. Dalle cure normali. E lei si è data una spiegazione del fatto che pagasse il doppio? No, 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 proprio per niente. Pagavo e basta. Io dico quello che mi ha fatto lui, la cura che mi ha fatto. Io non punto il dito col ginecologo o con questo o quant'altro. Io dico la cura che lui mi ha fatto è stata questa. Quindi per me c'è una PMA assistita. Le visite che facevo non sono mai state così come le ultime visite che poi sono rimaste incinta. Quindi qualcosa c'è, qualcosa di strano c'è. Lei nell'udienza di febbraio nella quale avrebbe dovuto testimoniare si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Perché? Allora io mi sono avvalsa dalla facoltà di non rispondere perché avevo addosso i media, avevo addosso di tutto e di più, ne ho sentiti di tutti i colori. E quindi per rispetto di mio marito, dei miei figli e per me stessa ho preferito non rispondere. Perché ha scelto adesso di parlare? Adesso perché giustamente ho ciò pensato, ripensato, ripensato. Adesso è proprio il momento che io devo parlare, devo dire veramente tutto quello che io mi sento di dire perché è la mia verità. È la verità pura. Perché se io sono stata con Guerinoni, è uscito il buon, l'avrei detto. Per carità di Dio ragazzi, scusate, ma non è mai stato così. Non l'ho mai detto perché non sono mai stata con Guerinoni. Dice di non essere mai stata con Guerinoni, Esther Arzuffi. Ne è certa, come è certo che basterebbe cambiare un allele del DNA di Ignoto 1 per avere un risultato che non ha il nome e cognome di Massimo Giuseppe Bossetti. Esther, quindi lei sostiene che Giuseppe Guerinoni possa essere stato un donatore di seme? Sì, girano voci anche di questo. Sì, ho sentito anche questa voce. Se un domani il PM dovesse chiederle, signora Arzuffi, lei giura di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, e giura che forse è stata vittima di inseminazione artificiale, lei cosa risponderebbe? Sì, sì, lo giuro sulla Bibbia che non ho mai avuto rapporti con Guerinoni. Lei ama ancora Giovanni Bossetti? Tantissimo. Ne manca? E in quanto? No. No.